Pioggia di critiche dai leader toscani alla scelta di Sergio Cofferati di lasciare il PD, sia dal presidente della regione toscana Enrico Rossi che dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Ieri sul profilo Facebook di Rossi si leggeva, capisco l'amarezza e anche la denuncia di Sergio Cofferati, alla cui campagna ho provato a dare sostegno con l'apprezzamento per la svolta che voleva dare alle politiche del territorio, ma Sergio sbaglia ad abbandonare il partito, le battaglie si fanno dentro e non fuori, altrimenti per coerenza dovrebbe dare le dimissioni dall'incarico in Europa, essendo stato eletto con il PD. Civati esulta e parla di scissione, ma non è di divisioni e partitini che ha bisogno la sinistra, giunge Rossi. Il nostro popolo ci chiede di impegnarci nella lotta per il lavoro e non in quella per le poltrone. Anche il primo cittadino Nardella, ex deputato del PD, sottolinea l'importanza di essere uniti, conviene a tutti, afferma, invece di evocare le solite scissioni che alla sinistra hanno solo portato sciagure. L'esempio del calcio può aiutare, quando si perde non si butta il pallone in tribuna ma si continua a giocare, ha detto, parlando oggi a margine della cerimonia per i nuovi ingressi nella Hall of Fame della FIGC, tenutosi a Palazzo Vecchio. Mi auguro che la vicenda a Cofferati non sia strumentalizzata nel voto al Quirinale, sarebbe non soltanto un peccato per il paese, ma un clamoroso autogol per il nostro partito. Confido sul fatto che Cofferati possa cambiare idea, come hanno detto tanti dirigenti del mio partito, perché le battaglie più difficili vanno giocate in casa, senza sbattere la porta dopo aver perso a concluso Nardella.